Io sono Emanuele, Emanuele Gerlini, attualmente lavoro come Director of Engineering per un'azienda tedesca qui in Germania che si chiama Moia. L'invito al podcast è stata una grande opportunità, è stato anche un grande piacere di entrare in contatto con il vostro team, con Alex in particolare che già conoscivo da tempo, insomma lo seguivo sui vari social. Feedback sicuramente positivo, è una realtà che in Italia non si vede tanto perché ancora non abbiamo una forte comunità di tech lead, di CTO o quant'altro, è bello vedere che sta nascendo. E consiglio a tutte le persone che stanno entrando in questo mondo di seguire il canale, di seguire il gruppo Slack, di seguire i canali social del team perché stanno facendo un grande lavoro dal mio punto di vista, qualcosa che serve davvero al panorama italiano. Grazie a tutti.